Fabolosità, favorosità, 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 favorosità Ciao amici miei, bentornati in un nuovo vlog è ritornato il selfie stick che non lo usavo da un sacco, non so perché cioè, è tutta un'altra cosa non so se è la fotocamera sporca, dopo ci controllo allora ragazzi, oggi è giovedì 8, sono le 13.52 mi sto già preparando perché alle 3 ho l'infermiera del CSM che ci abbiamo appuntamento oggi poi alle 16 ho l'IPS, quel programma per trovare lavoro e supportarmi e poi, dato che adesso ho di nuovo un mezzo, ho ricontattato il CERT e ho preso un appuntamento per oggi, l'ho preso giovedì scorso che tra l'altro sta nella stessa struttura dell'IPS sapete che al CERT ci va di una spontanea volontà soprattutto perché parlo con qualcuno ed è una cosa che mi fa abbastanza bene anche perché poi, sì, diciamo che sto mangiando parecchio parecchio, parecchio, parecchio in quest'ultima settimana soprattutto perché sono molto nervoso, depresso vado altalenante, non sto bene cioè, o sto male o sto teso quindi, diciamo, un'aria dei mezzo non ce l'ho come ho detto anche nel vlog, che sicuramente avrete già visto mi hanno un po' sistemato la terapia l'ultima volta che sono andato in urgenza che è stato questo lunedì, ma voi il vlog l'avrete visto il venerdì scorso questa cosa mi sta rincoglionendo molto la mattina perché devo prendere un 50 mg la mattina di guetabina e poi i restanti li prendo la sera, i restanti 250 perché ne prendo 300 lavastichetta per dormire sinceramente fa ma non mi rincoglionisce quella almeno perché quando mi sveglio la mattina perché ho la sveglia per prendere appunto la guetabina non sto rincoglionito appena sveglio mi rincoglionisco dopo un po' che fa effetto la guetabina quindi mi rimetto a dormire infatti sto addormendo tantissimo adesso vado prima a prendere un caffè dalla vicina sto un po' con lei e poi dopo parto ci vediamo dopo rieccomi amici miei allora sono venuto al parco ducale vabbè ma forse così un po' si vede è il mio parco preferito che a Sassuolo siccome sto in anticipo sono le 14.38 e l'appuntamento solo alle 15 adesso sto qui una decina di minuti e poi vado dove devo andare insomma aspettate che giro allora oggi è una bellissima giornata sì, si sono un po' di nuvole è bellissima insomma, speriamo che non piova perché poi fino alle 6 sarò qui sarò in giro oggi c'è la bici e questi nuvoloni grigi non li avevo visti prima speriamo che tenga questo tempo e sono comunque in un punto un po' appartato del parco ducale perché vado sapere che se devo fare video io devo stare appartato il problema è che se volessi fare qualcosa sulla bici io ho ricomprato questo che me l'aveva regalato lei dalla lista Amazon e l'ho ripreso uguale però il problema è che sotto è così quindi se voglio riprendere la strada non posso e non ci ho pensato quando l'ho ripreso però sinceramente c'è mi era stato regalato da lei dalla lista Amazon l'ho potuto prendere uguale come se fosse quello lì insomma perché era un regalo niente dai ci aggiorniamo dopo allora lì eccomi amici miei sono le sei mi sono perso vabbè a piove non viene a piove allora oggi ho fatto tante di quelle cose ho trovato dalle tre alle quattro l'infermio del CSM e lì vabbè in realtà non è che si siamo detti chissà cosa mi sembra Manola quando si rimaneva incassata la pelliccia in bocca dicevo che ho dovuto stoppare perché non capivo se si sentisse o meno con l'infermio vabbè semplicemente ci rivediamo il 13 perché poi al 15 c'è un appuntamento con tutto il mondo praticamente concerti CSM e servizi sociali quindi ci rivediamo il 13 per rivedere un attimo quello che devo dire soprattutto all'assistente sociale perché non sta né in cielo né in terra che sono due mesi che sto così abbandonata a me stesso per quanto riguarda invece l'ips oggi abbiamo visto il curriculum mi ha dato un esercizietto da fare il mio curriculum è molto ricco sono tre pagine e l'ho sfoltito perché comunque ho 40 anni voi calcolate che inizio un lavoro mi dura più o meno un anno poi smetto poi ne ho inizio un altro quindi comunque di lavori ne ho fatti tanti poi per fortuna sempre più o meno nello stesso ambito quindi mi ha dato un po' di dritte e devo praticamente tenere una pagina sola e poi dopo la settimana prossima quando ci rivediamo lo facciamo insieme intanto devo comunque riassumere il tutto ecco come supporto lo trovo molto interessante al sito del centro per l'impiego sono già iscritto però mi ha fatto vedere alcune sezioni che non conoscevo perché quando mi ero iscritto non stavo sotto le categorie protette poi dopo sono andato al CERT perché comunque ho deciso io di riandarci come vi avevo già detto e ci andrò tutte le settimane in realtà ho solo parlato del mio malessere adesso trovo la strada di casa perché stavo sulla strada ma volevo riprendere il percorso natura ma al ritorno non so dove si entra quindi adesso vedo delle persone in bici e proverò a seguirle e mi denunceranno per stalking farò la chiusura dopo a casa ragazzi a dopo rieccomi amici miei in realtà adesso sono le 19.19 sono ritornato un'oretta a fame sono fatto una bella frittata con le verdure era buonissima peccato non c'ho col pane ma meglio così ciao Marilyn Monroe nulla mi sono un attimo riascoltato l'ultimo spezzone che ho fatto in realtà ho detto già tutto lì quindi questa è semplicemente una chiusura se siete arrivati fino a questo punto hashtag ciò ciò sì ci ho pensato un po' ma voi avete visto il taglio quindi questo hashtag ci piace molto io vi ringrazio per aver seguito tutto il video fino alla fine mi raccomando se non siete iscritti iscrivetevi tanti like tanti commenti tanti baci vogliamo se è bello noi ci vediamo al prossimo video e non dimenticate che voglio bene ciao